Kate Middleton, principessa del Galles, è una figura amata e ammirata in tutto il mondo. Di recente, una tenebrosa profezia riguardante la sua salute ha suscitato preoccupazioni e speculazioni. La profezia proviene da Moni Vidente, una celebre veggente nota per le sue accurate previsioni. Nel marzo 2024, Moni Vidente ha rilasciato una dichiarazione scioccante riguardo la salute di Kate Middleton. Secondo la veggente, la duchessa è vittima di una maledizione che potrebbe compromettere seriamente la sua salute nei prossimi mesi. Moni Vidente ha affermato che Kate potrebbe affrontare un grave peggioramento della sua malattia tanto che le resterebbero solo nove mesi di vita, alimentando preoccupazioni tra i suoi sostenitori e i media internazionali. Le dichiarazioni di Moni Vidente hanno scatenato un'ondata di reazioni, con molti che si chiedono se queste previsioni abbiano qualche fondamento. Secondo la veggente, la maledizione potrebbe essere collegata a tensioni e invidie all'interno della famiglia reale, suggerendo che ci sono forze oscure al lavoro contro la duchessa. Moni ha inoltre sottolineato che questa maledizione non solo metterebbe a rischio la salute fisica di Kate, ma potrebbe anche avere ripercussioni sul suo benessere mentale e sulla stabilità della sua famiglia. La profezia di Moni Vidente ha trovato ecco in diverse testate giornalistiche e portali online, alimentando il dibattito pubblico e sollevando domande sulla veridicità delle affermazioni della veggente. Non è la prima volta che Moni Vidente fa previsioni di grande impatto, e la sua reputazione precede queste nuove dichiarazioni. Moni Vidente, il cui vero nome è Rafael Martínez de Leon, è una veggente cubana naturalizzata messicana, famosa per le sue accurate previsioni su eventi globali e la vita delle celebrità. È diventata una figura di rilievo nei media latinoamericani grazie alle sue apparizioni in programmi televisivi e alle sue previsioni pubblicate su vari media. La carriera di Moni Vidente è iniziata in giovane età, quando ha scoperto di avere doti psichiche. Nel corso degli anni, ha perfezionato le sue capacità e ha iniziato a fare previsioni che si sono rivelate incredibilmente accurate. La sua fama è cresciuta quando alcune delle sue previsioni più note, come la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e vari eventi naturali, si sono avverate. Moni Vidente non è nuova a controversie. Le sue previsioni sono spesso al centro di dibattiti accesi e critiche, ma la sua capacità di prevedere eventi con precisione le ha conferito una grande credibilità tra i suoi seguaci. La Vegente utilizza vari metodi per le sue previsioni, tra cui la lettura delle carte, l'astrologia e le visioni, che condivide regolarmente attraverso i suoi canali social e apparizioni pubbliche. Non è la prima volta che Moni Vidente fa una previsione riguardante una figura di rilievo della famiglia reale britannica. In passato, ha fatto dichiarazioni simili riguardanti altri membri della famiglia, alcune delle quali si sono rivelate accurate. Questo ha contribuito a costruire la sua reputazione come una delle veggenti più affidabili e seguite del panorama mediatico. Non è di certo l'unica delle tante profezie che girano intorno alla famiglia reale. Quest'ultima si aggiunge alla profezia su Re Carlo e alla profezia sulla fine della corona.